3 paesi, Ecuador, Bolivia e Paraguay, 7 trasferimenti aerei, 22 discorsi, migliaia e migliaia di persone in gioiosa attesa. Il viaggio di Papa Francesco in America Latina, il nono del pontificato dal 5 al 13 luglio, avrà come tema unitario la gioia di annunciare il Vangelo e si preannuncia a carico di aspettative, come ci spiega il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. Il continente latinoamericano è un continente in movimento, dove sono presenti trasformazioni, cambiamenti a livello culturale, a livello economico, a livello politico. Durante questi decenni ha potuto godere di una fase molto positiva che ha permesso a molte persone di emergere dalla povertà, di emanciparsi dalla povertà, dalla miseria, dalla povertà estrema e di incorporarsi progressivamente anche nel ceto medio. D'altra parte ci sono accentuati fenomeni di urbanizzazione, per esempio se pensiamo alle megalopoli dell'America Latina e altri fenomeni legati un po' alla globalizzazione, che si percepisce in modo evidente anche in questa parte del mondo. Allora di fronte a questi nuovi scenari che portano anche a una progressiva secolarizzazione della società latinoamericana, anche se in forme che non sono semplicemente omologabili con la secolarizzazione del mondo occidentale. Ecco, di fronte a questi nuovi scenari la Chiesa ha scelto la via della conversione pastorale, ha scelto la via della missionarietà, dell'impegno missionario e in questo senso può diventare anche paradigmatica per molte altre parti del mondo. Direi che questo il contributo, ma lo vediamo anche per esempio nel Magistero del Papa, ecco questo Magistero che fonda le sue radici proprio su Aparecida, ecco, e che viene proposto oggi all'intera Chiesa universale. E da un punto di vista politico direi che l'America Latina può essere vista come un vero e proprio laboratorio, ecco, dove si stanno cercando, si stanno sperimentando nuovi modelli di partecipazione, forme più rappresentative, che diano voce anche a delle fasce di popolazione, ecco che finora forse non erano state sufficientemente ascoltate. In Ecuador la Chiesa ha un ruolo fondamentale nella formazione della società civile, soprattutto ponendosi come coscienza critica di fronte sempre a ricorrenti tentativi di minare l'istituzione della famiglia e la sacralità della vita. Quali sono le difficoltà che incontra oggi la Chiesa ecuadoriana e che cosa si aspetta da questo viaggio? La Chiesa in generale, ecco, faccio una breve premessa generale, continua ad esercitare un ruolo profetico di fronte a quelle che il Papa stesso chiamava le colonizzazioni ideologiche, non le colonizzazioni ideologiche, cioè questi tentativi di imporre modelli che non solo, diciamo, non sono adatti all'ethos e alla tradizione delle popolazioni, ma molte volte tendono proprio a sovvertirli. È un po' il fronte della famiglia e della vita, il fronte principale in cui queste colonizzazioni ideologiche cercano di imporsi. Ecco, allora la Chiesa dovrà continuare a predicare il Vangelo, che è appunto una buona notizia anche nei confronti della famiglia e della vita, in questa situazione in cui si trova. In Bolivia Papa Francesco sarà accolto dal Presidente Evo Morales con il quale condivide diverse preoccupazioni. Pensiamo ai poveri in un mondo dove domina la finanza, la tutela ambientale. Questa sarà dunque l'occasione per ribadire alla responsabilità della comunità internazionale. Il Papa ha già espresso in molti suoi interventi e soprattutto nell'ultima enciclica l'ha laudato sì. Ed allora quali sono questi inviti? Sono l'invito alla salvaguardia del creato, della casa comune, come la chiama il Papa, l'invito alla giustizia sociale. L'invito a ricercare una pace che sia rispettosa dei diritti di tutti. L'invito a una società che sia più inclusiva dei poveri. Ecco, l'invito alla lotta contro le forme estreme di povertà perché sia riconosciuta la dignità di ogni persona. E poi anche il rispetto di quella che è l'identità culturale di ogni paese contro questa tendenza della globalizzazione, di uniformare tutto e di evitare appunto che anche i rapporti sociali siano commercializzati, siano economicizzati ma rimangano con la loro caratteristica di ricchezza di ogni partecipante. Infine l'ultima tappa del viaggio, il Paraguay dove Papa Francesco sarà un pellegrino, un missionario, hanno detto i viscovi del paese annunciando la visita che desidera accompagnare il popolo nel suo triennio dedicato all'evangelizzazione della famiglia. Dunque la famiglia torna ad essere al centro dell'attenzione. In Paraguay le famiglie sono ancora solide, numerose, è uno dei paesi più giovani del mondo. Poi vorrei sottolineare anche l'impegno del paese proprio a livello costituzionale per il rispetto della vita dal suo inizio alla sua fine ma che naturalmente presenta anche tante tante debolezze, non so ecco per esempio le famiglie unigenitoriali dove la mamma praticamente porta tutto il peso, è sola e porta tutto il peso della famiglia, il tema della disoccupazione o della sottooccupazione che evidentemente compromette la stabilità e la vita normale delle famiglie, il tema anche della droga che veramente destabilizza molte famiglie. Bene, ecco di fronte a questa situazione il Papa vuole essere una presenza di vicinanza, vicinanza a tutte le famiglie e soprattutto alle famiglie che soffrono per uno di questi motivi e di incoraggiamento ecco per andare avanti.